C'è successo? È ceduto un palo della luce? Sì, non è caduto, è incantato. È incantato, quindi era pericoloso? Non l'abbiamo messa in sicurezza e l'abbiamo messa a casa. Ma come mai per la pioggia, per il fatto che si era... Sì, è dovuto a misura, perché è il tempo, perché comunque sono... Sì, è tanto tempo che questa strada è un po' trasturata. Ha ceduto la base, praticamente. Sì, ha ceduto proprio la base? Sì, ha ceduto qua, con la ruggine del tempo. E quindi siete arrivati voi? È appoggiata ad una macchina. Ad una macchina qui? Sì, è una macchina che poi abbiamo spostato, abbiamo messo in sicurezza, abbiamo spostato la macchina e abbiamo fatto... Quindi adesso tutta la zona è buia, quindi non c'è nucia? Ha dovuto staccare tutta la corrente di via Cazzo. Ok, ok, grazie mille. Sì, grazie mille. Non c'è fatto male a nessuno, vero? Tutto a posto per questo? Sì, no, 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 non c'è nessuno. Non c'è fatto male a nessuno? Ok, grazie mille, ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.